La rimessa per i bianchi anticipato, Sandri Daghion, lo scarico per Van de Putt, posizione centrale, L'ONDEPUT, un destro magico, una parabola straordinaria, quinto gol del Catanzaro, segna anche Yari Van de Putt che non trovava il gol dal match di Monopoli, nulla da fare per Gasparini che ha potuto solo osservare la traiettoria del Belga, letale come sempre il 27, quinto gol del Catanzaro, la manita alla potenza al nono minuto della ripresa, che squadra ragazzi! Sesto gol per Van de Putt, 12 assist, il fattore Yari Van de Putt che sposta inevitabilmente gli equilibri.